La storia arabesca di Sassar ha in questo senso asseminato energia attraverso tanti talenti che attraverso le varie forme d'arte e di danza si sono espressi in tutto questo tempo, col successo, con l'impegno e soprattutto con l'energia. Grazie alla direzione artistica abile e accurata di Maria Grazia Dell'Iperi e di cui adesso possiamo assaggiare un momento così all'insegna del classico. Compagnia di danza arabesca di Sassari. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti